Una chiacchiera per primo caso, siamo arrivati al concreto, abbiamo cercato il numero della Caritas di Milano, abbiamo contattato per il 24 sera a Porta Garibaldi, a dare da mangiare senza tetto e ai poveri in generale, non scompa, si è unito a me e a mia moglie con molto piacere, abbiamo passato il 24 sera un po' diverso dando una mano a due loro. Esatto, a me mi ha raccontato Chris questa iniziativa parlandone in spogliatoio, mi è piaciuta fin da subito, ho messo sotto mamme e nonne vicini a preparare qualcosa da mangiare e siamo andati a dare una mano che è meno fortunato di tutti.